buonasera buonasera chi sei io sono eva in arte eva rea di dove sei catania sicilia siciliana cosa fai nella vita che musica fai faccio hip hop scrivo rime da quando avevo 16 anni quindi ormai qualche annetto avevo cominciato veramente in quanto hobby senza un fine ben preciso poi alla fine è una passione che non ho mai smesso di coltivare ad oggi che in italia è diventato il genere ascoltato che è diventato pensato che era il giusto momento per farmi avanti e credi che x factor sia il posto giusto per te assolutamente e allora facci sognare grazie cosa ci canti vi canterò su scream and shout di william e britney spears delle mie strofe quindi un adattamento a tutti gli effetti sentirete anche l'esordio particolare prova volume nel microfono ovviamente una canzone dance quindi se battete le mani soprattutto quando dico questi sono trip sul beat questi sono trip sul beat che è un po il ritornello se battete le mani io sono felice sarei più felice grazie prego bass questi sono trip sul beat everybody in the club all eyes on us all eyes on us all eyes on us all eyes on us i cittadini del pecco pro ascolta i culi non li lecono non so se sarà data per un talent show litigo perché per ogni cosa è discutibile sono contraria e contraddirò ma amici vento con cemento sempre simile nessuna insinuazione versione specie da incontri un'azione metto il ritmo in vortice come un ciclone incastro perfetto come nel letto col 69 oh è sopra il beat che mi faccio i veri trip questi sono trip sul beat evidente che sto livello sotto se per di sempre di vola ve l'ho rotto ribellione ritmo nel sangue ti vassilante non lo sopporto qui si beve tutti pressi bene casse viene la vita è breve questa serie me le voglio godere sa che nessuno mi ha mai fermato ma mi sto di lato scrivo rime fino alla fine e nemmeno prendo fiato complimenti per rapare così veloce ha il punto perfetto di di entertainer non è troppo ma non è timida e il ritornello non so se mi ha piaciuto tanto però fedez puoi anche aiutarmi in questo giudizio allora ci sono state delle cose che mi sono piaciute veramente tanto a livello metrico e a livello di flow e soprattutto a livello di incastri che è una cosa che si è un po perso e sempre che sono contento perché la prima cazzo di volta che la gente fa una standing ovation per un'esibizione rap il fatto che tu ci sia riuscita veramente mi rende tanto felice grazie grazie io credo che tu stia nuotando proprio nel tuo mare a tuo agio non c'è niente di artificiale mi sei piaciuta tanto mi sei piaciuta tantissimo anche a me quindi inutile dire ridire dire ridire votiamo per me sì anche per me è un sì anche per me è un sì e allora sono quattro sì ciao a tutti ciao ragazzi sono alessandro vi è piaciuto il video che avete appena visto e allora andate sul sito di x factor e anche sul nostro canale youtube buona visione grazie